A Caprera Garibaldi ripensa all'impresa dei Mille, fermata proprio nel momento in cui i suoi uomini di slancio, dopo la vittoria sull'esercito borbonico, stavano per risalire la penisola e conquistare Roma. Tutto era stato bloccato dalle truppe di Vittorio Emanuele II e dalla politica di alleanze di Cavour. Ma perché non riprovarci senza chiedere il permesso a nessuno? Sa che la popolazione è con lui, che i volontari sono pronti a seguirlo con entusiasmo, quindi decide di ritentare. Nel 1862, due anni dopo l'impresa dei Mille, Garibaldi torna in Sicilia per organizzare un esercito che deve conquistare Roma. Ma questa volta il governo italiano usa le maniere forti per fermarlo. manda dei soldati a sbarrarli la strada, non solo, ma a spararli addosso. È in Calabria che avviene lo scontro, sulla Spromonte. Garibaldi era alla testa di duemila volontari che si erano mobilitati al grido di o Roma o morte. La Francia, alleata dello Stato Pontificio, aveva minacciato di intervenire contro la spedizione. Il governo Rattazzi, per evitare quest'intervento, aveva inviato alcuni battaglioni contro i Garibaldini. Italiani contro italiani. Garibaldi, convinto che l'esercito regolare non avrebbe mai potuto spararli addosso, si mette alla testa dei suoi uomini, ma viene ferito al piede e alla coscia. È il 29 agosto 1862. Ordina quasi subito il cessate il fuoco. Viene trasportato al forte di Varignano e di Lì a Caprera. Il fatto crea grande scalpore e il governo Rattazzi è costretto a dimettersi. La convalescenza di Garibaldi è molto lunga, la ferita non riesce a guarire.